Quando si parla di liberalizzazione delle professioni si fa riferimento anche alle farmacie alle quali pare toccherà sin da subito con un pacchetto che dovrebbe già essere approvato in Consiglio dei Ministri il prossimo 20 gennaio, prima del vertice di Bruxelles del 23. Si parla dell'ipotesi di un decreto legge che avrebbe il merito di bypassare per il momento il Parlamento oggetto di fortissime pressioni delle lobby. I farmacisti in generale sono sul piede di guerra, in Italia sono 50.000 quelli impiegati nelle 18.000 farmacie circa, di queste 16.000 sono private mentre circa 1.500 sono comunali, soltanto intorno ai 17.000-18.000 sono tuttavia titolari di una licenza. Restando sulle cifre si sa che gli iscritti all'ordine dei farmacisti sono 82.000 e crescono mediamente di 2.000 unità all'anno ma 30.000 di questi non lavorano in farmacia. Ma in Italia esistono anche le cosiddette parafarmacie che sono 3.823 e che danno occupazione a 8.000 persone di cui 6.500 sono farmacisti. Sono proprio loro a premere per la liberalizzazione del mercato dei farmaci di fascia C e a proporre un'apertura al mercato delle licenze. Ma non tutti i farmacisti, dicevamo, sono sul piede di guerra. Cambiamento sì ma che sia produttivo per farmaci e consumatori, dice una rappresentante della categoria che opera a Catania. Noi abbiamo timore che vengano date delle informazioni al pubblico sbagliate oppure frammentate e quindi si crei nell'opinione pubblica una sorta di posizione non corretta nei confronti della farmacia. La farmacia è sempre stata presente e credo abbia ottimamente funzionato nel tempo. Siamo ben disposti a volerci modernizzare, aprire, modificare gli orari, cercare di venire incontro al meglio con servizi al pubblico, anche con i prezzi che in questo momento sono quelli che interessano di più, ma sempre nell'ottica di tutela della salute del cittadino. E secondo lei il cittadino è consapevole di questa fase che si sta attraversando nel vostro settore? No, assolutamente no. È questo che mi spaventa perché l'informazione data alla televisione, mi rendo conto, è molto frammentaria e crea molto confusione. Anche a me che sto davanti alla televisione per capire quello che ci succederà, ma sinceramente non è facile. E poi immagino che liberalizzazione significhi miglioramento, ma miglioramento in tutti i sensi, anche negli orari, nelle possibilità che devono crescere e aumentare rispetto al cliente, al cittadino. Anche a me che sto davanti alla televisione per la televisione per la televisione per la televisione per la televisione.